Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un after patch del glitch per passare le auto agli amici Ovvero GiveGar to Freehand Io in questo caso vado a prendere questa moto E che cosa ci serve ragazzi? Un amico, la base operativa piena Il veicolo che volete prendere ovviamente dell'amico E un'auto di strada ragazzi Per prima cosa vi avvicinate con l'auto di strada Venite verso la base operativa Fate comparire base operativa piena Tasto PSN E ritornate in game sempre con il tasto PSN Dopodiché aspettiamo che ci compare il pallino E dobbiamo approssimarci verso la fine della base operativa Cioè dall'altro lato premendo il tasto touchpad Altrimenti ci farà entrare E dobbiamo fare questo movimento Io adesso lo sto simulando ragazzi E quando siamo qui a questa altezza più o meno Dobbiamo pigiare il tasto cerchio per togliere il menu interazione In maniera tale che ci compaia la scritta base operativa piena Andiamo a farlo ragazzi Via cerchio E come vedete compare la scritta base operativa piena E noi siamo lontani dalla base operativa A questo punto rientriamo Accettiamo il messaggio ovviamente con X Rientriamo nella base operativa E il gioco è fatto ragazzi E potremo prendere tranquillamente l'auto del nostro amico L'auto o comunque la moto O quello che cazzo vi pare a voi Quello che volete voi Insomma quello che vi interessa di più Maggiormente dal vostro amico A questo punto entrate nella base operativa Una volta che siete dentro la base operativa Premete cerchio E poi X Vi dirigete verso l'uscita X per uscire ovviamente E cominciate a spammare il triangolo ragazzi Per uscire dalla base operativa In maniera tale che quando uscirete fuori Vi salirà sulla moto Quindi quando siete sicuri che sarete sulla moto Anche il vostro amico vi dirà Sì ci sei Basterà accettare con X Vi fate un pochino indietro Andate avanti E il gioco è fatto ragazzi E avete preso il veicolo che volete Del vostro amico Come ho già detto In qualunque caso La moto Il Qualunque cosa ragazzi Qualunque cosa Potete anche mettere Potete mettere qualche veicolo Pegasus Del CEO dentro Non so La BJX Come cazzo si chiama Poi c'è Il Baller PL Magari se qualcuno Non l'ha comprato Finora Magari ce l'ha E cioè Magari lo vuole Può prenderlo in quel modo Diventa Diventa CEO Si fa arrivare l'auto E può farlo anche da solo Ragazzi Quindi Non c'è problema Quindi come vedete Ecco qui la La moto ragazzi La moto che io ho appena preso Adesso esco fuori Comunque non c'è bisogno Che esco fuori Perché insomma Siete intelligenti Da poter capire Che non è fake Vi comparirà Può darsi Vi comparirà Ancora base operativa piena Però schippate il messaggio Perché tanto oramai Il veicolo che avete preso Se in caso dovreste prendere Un altro veicolo Invece Ve lo fate accostare Dal vostro amico E prendete un altro veicolo Ragazzi Il glitch è abbastanza semplice Detto questo Che altro aggiungere ragazzi Il glitch finisce qui Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti